Lo smarrimento iniziale, lo shock, l'angoscia, anche le nostre redazioni pochi minuti dopo lo schianto di Mestre hanno trattenuto il respiro sperando di aver capito male. No, non poteva essere vero, quel cavalcavia in Veneto non solo, lo conoscono tutti. Una tragedia troppo grande e la nostra scelta immediata di interrompere il regolare flusso delle trasmissioni per mettervi in contatto con la realtà senza filtri se non l'urgenza di raccontare i fatti con il giusto tatto che imponeva uno scenario di guerra che ha sconvolto tutti. Ci riconoscono come il vero servizio pubblico ed è quello che cerchiamo di fare ogni giorno. Sono circa le 20.30 quando parte la nostra edizione straordinaria, siamo gli unici a trasmettere in diretta a nord-est e a livello nazionale il dramma di un'intera città diventa mondiale con il passare dei minuti. Siamo costretti a interrompere la programmazione di Antena 3 per una notizia appena giunta. Un autobus, non è ancora chiaro se si tratti di un bus turistico, ha sfondato la recensione del cavalcavia Vempa in via dell'elettricità a Mestre. Arrivano le prime immagini, si fa una selezione dei video utilizzabili, cerchiamo riscontri con gli operatori dell'urgenza ed emergenza che si rivelano ancora una volta degli angeli. Al di là di ogni retorica, le redazioni si allineano, sul posto arrivano le nostre truppe. Con noi ancora una volta ci siete voi. Più di un Veneto su cinque sceglie le trasmissioni del gruppo Media Nord-Est con i dati certificati Auditel che segnano oltre un milione e 600 mila telespettatori nella giornata, di questi quasi 900 mila solo su Antena 3. La dimostrazione è che di fronte a un evento di cronaca i punti di riferimento dell'informazione sul territorio sono le nostre emittenti, il vero servizio pubblico televisivo del Nord-Est. Se qualcosa succede è accendendo Antena 3 che si può essere informati. Ancora una volta abbiamo lavorato fianco a fianco con voi telespettatori che con migliaia di video, considerazioni, segnalazioni ci avete aiutato in un momento critico e sconvolgente per tutti a fare un'informazione seria, autorevole e credibile. Il servizio pubblico del Nord-Est. Grazie a tutti.